Crescono di anno in anno le vittime dei fuochi pirotecnici di fine anno. Così come cresce il mercato clandestino della pirotecnica, botti e fugi artificiali di capodanno oltre a provocare ferimenti e in casi peggiori la morte di persone in tutto il territorio nazionale rappresentano un pericolo per i cani e i gatti che possono provare una brutta situazione di stress. La loro sensibilità ai suoni e talvolta agli odori intensi che permangono porta a una sofferenza non da poco dell'animale. Oltre alla paura i botti possono far sopraggiungere gravi conseguenze nei nostri amici a quattro zampe come perdita dell'orientamento e attacchi di panico che portano anche ad arresti cardiaci. Non soltanto una fonte di enorme spavento per gli animali domestici ma anche un serio pericolo per gli animali selvatici come gli uccelli presenti nei parchi delle nostre città. Sparate botti per l'ambiente, per la pericolosità, per i costi ma soprattutto per quelle povere anime che sono gli animali. Botti sì ma nel giusto senza quelle cose esagerate che si rischia di farsi male. I miei cani si agitano abbastanza. Inizialmente tentano di correre fuori al terrazzo poi ritornano indietro, abbaiano, corrono avanti e indietro. Questa è la reazione. Che dovrebbero evitare i botti per quanto riguarda proprio gli animali perché è una cosa tremenda per loro.